Nasce Young Corner, progetto sviluppato da un'idea dell'assessore alla cultura e alle politiche giovanili del comune di Pordenone, Alberto Parigi. Il progetto intende coinvolgere le giovani band musicali della città che potranno candidarsi per suonare il 9 e il 16 dicembre all'interno del villaggio natalizio che verrà allestito in piazza 20 settembre. Si dice che i giovani non hanno mai spazio, noi abbiamo deciso di darglielo inserendoli all'interno del programma degli eventi di Natale. Avranno a disposizione queste due giornate, quindi le band giovanili o i singoli artisti potranno candidarsi attraverso le modalità indicate sul nostro sito web ed esibirsi in piazza. Quindi avranno nel vero senso della parola un palcoscenico a loro disposizione e allo stesso tempo faranno da intrattenimento per chi frequenterà le casette sotto Natale. Mi pare un buon modo appunto per integrare i nostri giovani nella vita culturale e artistica della nostra città. Possono partecipare anche gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Pordenone, che hanno attivo un progetto di educazione musicale. Un'occasione da non farsi scappare per tutti quei giovani che vogliono esibirsi nella piazza più importante della nostra città. L'invito è quello di approfittare, fatevi vedere, fateci sentire la vostra musica, noi siamo a vostra disposizione. Sarà possibile inviare la propria candidatura fino al 27 novembre attraverso il modulo presente sul sito del Comune di Pordenone. Per informazioni scrivere a politichegiovanili.comune.pordenone.it o telefonare in forma giovani allo 0434 392 537. Per informazioni scrivere a politica di Pordenone.it o telefonare in forma giovani allo 0437. Grazie. Grazie.